e poi scaricata anche qua valori diciamo medio forte quindi 8000 7000-10000 7000-10000 il valore di riservimento ma quella palletta corrisponde a una faglia quindi c'è una faglia geologica che fa infiltrare acqua da monte e ce la ritroviamo poi risorgiva qua sotto vedete quella parte lì non è più muro lì sotto non c'è la parte della ciota quindi sarà uno dei lavori che scatolisce per microscopia all'interno del lavoratore il pavimento dopo che l'abbiamo finito di pulirlo ha schiattato decine di centimetri di soltato di stancrovesa valente questa è il deposito temporaneo per cui il deposito temporaneo è il lavoro è stato di tutta è un lavoro di ciò che è che è così